Buongiorno amici, questo è il resto del Carlino Tg edizione del 9 dicembre. Cominciamo parlando della vicenda dei maiali alla diossina provenienti dall'Irlanda. Il Ministero della Salute ha ordinato controlli in nove paesi europei e attenzione particolare alla vicenda viene riservata anche dalla regione Emilia-Romagna. Sequestri di carne in Emilia-Romagna dopo l'allerta lanciata dall'Unione Europea, i servizi veterinari e titolari delle imprese di produzione interessate hanno aperto gli stabilimenti anche ieri nella giornata festiva per verificare la documentazione fiscale e di lavorazione. Si è così potuto appurare che parte delle carni oggetto di allerta sono già state lavorate insieme ad altre per produrre prodotti di salumeria e parte ancora in giacenza nelle celle frigorifere delle ditte. Le carne tuttora presente è stata posta sotto sequestro così come sotto vincolo sono stati messi i salumi in fase di stagionatura. Lo rende noto l'assessorato alle politiche per la salute dell'Emilia-Romagna che aggiunge per gli alimenti già spediti sono invece iniziate le procedure per il ritiro dal mercato. Tutti i servizi veterinari delle aziende USL dell'Emilia-Romagna hanno avviato controlli sulle partite di carne suina introdotte dall'Irlanda a partire dallo scorso mese di settembre sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero competente a seguito di segnalazione comunitaria per sospetta contaminazione da diossina. L'allerta ha riguardato spedizioni di carne suina provenienti da uno stabilimento della Repubblica d'Irlanda destinati a diversi paesi della comunità ed extracomunitari. 255 sono le tonnellate di carne arrivate in sei stabilimenti dell'Emilia-Romagna. E parliamo adesso di Motor Show, la grande rassegna del rombo che è in corso in questi giorni alla Fiera di Bologna. Resterà aperta fino a domenica prossima già moltissimi i visitatori a partire anche da sabato in particolare, giornata che è stata caratterizzata dalla visita di Belen Rodriguez, la bellissima madrina del Motor Show. Ha passato in rassegna tutta la Fiera di Bologna attraverso i vari padiglioni, in particolare si è soffermata con i meccanici della Ferrari che come sapete ogni anno sono presenti al Motor Show per far vivere dal vivo il rituale del pit stop. Ovviamente molti flash, molti fotografi, molti ammiratori e tante guardie del corpo intorno a Belen Rodriguez per preservarla dall'assalto furibondo di questi fans. Oltre a Belen Rodriguez c'è da parlare in particolare dello stand del resto del Carlino, lo stand del resto del Carlino della Polizia che ha ricevuto delle visite importanti, tra l'altro quella dell'allenatore del Bologna Sinisa Miailovic, lo vedete nelle foto che scorrono, insieme al nostro vice direttore Pierluigi Masini, insieme a Stefano Biondi del resto del Carlino e comunque all'interno di questo stand che la Polizia ha riservato ed è dedicato ai temi della sicurezza stradale. Sono temi centrali e verranno riesaminati anche in questi giorni con l'attenzione particolare di tutti gli operatori del settore. Il programma di oggi del Motor Show prevede particolare attenzione all'approfondimento di temi legati all'ecologia e alla sicurezza stradale con varie iniziative. Poi occhi puntati sul campione del moto della superbike Troy Bailey, ospite di Alfa Romeo insieme a Michelle Fabrizio e sul CT della nazionale di ciclismo Franco Ballerini che ha più volte portato i suoi a medaglia in mondiali e olimpiadi e che recentemente si è più volte dilettato come navigatori in competizione di rally. Dal Motor Show al Bologna Calcio per parlare del 2-2 che i Rosso-Blu hanno ottenuto sul campo della Regina domenica scorsa. Un risultato importante è il quinto pareggio consecutivo dell'era Mijajlovic, anche questa volta una rimonta, addirittura una doppia rimonta siglata dai gol di Valliani e di Divaio. Due belle prodezze, in particolare quella del Bomber che è arrivato al nono gol stagionale nonostante le difficoltà in cui versa il Bologna dal punto di vista della manovra. È stata una squadra matura, orchestrata prima con il 4-5-1 poi con il 4-4-2 quando Bernacci è andato a fare compagnia in prima linea a Divaio. È un Bologna che è riuscito a reggere il campo, a rimontare per due volte la Regina, una squadra particolarmente insidiosa che darà del filo da toccere a chiunque sul suo campo. Le distrazioni difensive ancora una volta sono state il limite del Bologna e Mijajlovic deve ancora curarle a fondo per evitare che la squadra si trovi sistematicamente in svantaggio e con l'esigenza di rimontare. In compenso, sul piano della manovra il Bologna è stato molto più preciso, puntuale, ha effettuato un gioco di rilancio estremamente rapido e preciso, è arrivato più volte alla conclusione e quindi è una squadra davvero ritrovata anche sul piano del dinamismo. Lo è anche perché Mijajlovic ha capito quale può essere la tattica da adottare con questo Bologna, una squadra che deve coprirsi le spalle, deve stare molto attenta in fase difensiva e poi ripartire in velocità. Si sono distinti in particolare Valiani, lo stesso Divaio e non è dispiaciuto nemmeno Coelho che è subentrato ad Ailton e ha dato una buona prova di sé. insomma un Bologna convincente da molti punti di vista ed è atteso ai prossimi importanti appuntamenti. E adesso parliamo di una visita importante per la città di Bologna, quella del presidente della Camera Gianfranco Fini, anche lui bolognese, è voluto venire per l'inaugurazione del Motor Show e per rendere omaggio ai 25 anni di un'associazione importante, la FANEP Famiglie Neurologia Pediatrica, questo è lo scioglimento della sigla che festeggia appunto dicevamo un quarto di secolo di vita, un'associazione particolarmente importante e preziosa vicina ai bambini, vicina ai ragazzi che soffrono di problemi neuropsichiatrici e anche di disturbi del comportamento alimentare. Fini ha visitato il reparto del professor Franzoni al Sant'Orsola e poi si è soffermato in Aula Magna per salutare tutti gli amici della FANEP, insieme a lui Augusto Cavina, direttore dell'azienda ospedaliera Sant'Orsola Malpighi, il cavaliere Francesco Mauro che è il presidente della FANEP, lo stesso Emilio Franzoni, direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile e l'assessore alla sanità del comune di Bologna Paruolo, tutti insieme hanno reso omaggio a questa associazione che è entrata un po' nella storia della città. È particolarmente gradito naturalmente il saluto del presidente della Camera Fini che ha promesso attenzione e appoggio a questa associazione. Bene, con questa notizia finisce il resto del Carlino Tg del 9 dicembre, arrivederci a domani.